Il viaggio dell'anima di Michel Newton 3 Gli impulsi distruttivi dei disordini emotivi, se lasciati senza cura, inibiscono lo sviluppo dell'anima. Questa frase si trova al capitolo 4, alla pagina 62 del libro Il viaggio dell'anima di Michel Newton. Che cosa sono gli impulsi distruttivi dei disordini emotivi, se lasciati senza cura, inibiscono lo sviluppo dell'anima. Il bambino che cresce senza amore avrà degli impulsi distruttivi, perché si sentirà inutile e solo, senza nessuno che lo ami. Senza gli abbracci di una madre, l'anima non si sviluppa correttamente.